Come è nata l'idea di questi di queste classi trasfrontaliere? Durante nel corso del primo progetto trasfrontaliero educa educare la diversità abbiamo creato dei gruppi di lavoro di docenti, gruppi di lavoro trasfrontalieri, nell'ambito di quali abbiamo creato questi giochi che avete appena conosciuto. Questa è stata un'esperienza molto positiva rispetto all'educa2 avevamo anche molto più tempo a disposizione, avevamo quasi tre anni e questo lavoro è stato il frutto di due anni di lavoro, però avevamo qualsiasi aspetto del gioco, dal grafico ai contenuti, colori, qualsiasi cosa abbiamo sempre discusso nell'ambito del gruppo. È stata un'esperienza molto positiva e allora ci è sembrato utile trasferire questa esperienza che abbiamo fatto con i docenti sugli allunni e da questo questa sfida di provare a fare queste classi trasfrontaliere. Siamo partiti anche dal presupposto che la collaborazione trasfrontaliera tra scuole con lingua di insegnamento uguale o diversa non è molto diffusa e abbiamo detto che uno dei primi passi da fare in questo senso è proprio la conoscenza del territorio, perciò questo tema la conoscenza dell'area confinare tra Italia e Slovenia si è anche dimostrata molto utile e anche perché la conoscenza dell'ambiente del territorio in cui la scuola opera è anche una delle priorità della scuola. Abbiamo iniziato con la conoscenza del territorio anche perché crediamo che conoscendo il territorio i ragazzi acquistano anche degli strumenti per inserirsi nel modo migliore e anche di vivere questo territorio con tutti i suoi pro e contro nel modo migliore possibile. Dunque l'obiettivo di questo work package delle classi trasfrontaliere è stato quello di realizzare delle unità di apprendimento. Queste unità di apprendimento didattiche, interdisciplinari, bilingui per la conoscenza del territorio trasfrontaliero funzionerebbero come sprone, come promozione per le altre scuole per poter avviare dei progetti, delle attività di collaborazione trasfrontaliera. Queste sono le scuole che hanno collaborato, come vedete sono scuole con lingua di insegnamento slovena, scuole con lingua di insegnamento italiana in entrambe le parti del confine, sono scuole che fanno riferimento alle comunità di minorianza e scuole che fanno riferimento alle comunità di maggioranza. Sono scuole che insegnano la lingua del territorio, sia lo sloveno sia l'italiano, sono scuole come in Italia, le scuole italiane che invece non insegnano la lingua di territorio, così che ci sono docenti che hanno esperienze molto diverse nel stesso ambito. Innanzitutto abbiamo creato due gruppi, due gruppi di docenti. Il primo gruppo coordinato dalla collega Barbara era composto da docenti che si insegna nelle classi quarta e quinta delle scuole ambientali in Slovenia, ovvero delle scuole primarie in Italia. Il secondo gruppo, che l'ho coordinato io, invece era formato da insegnanti delle classi ottave e nonne delle scuole elementari in Slovenia, ovvero delle classi, l'ultima e penultima classi delle scuole secondarie di primo grado in Italia. Dunque, il primo gruppo faceva a capo le classi trasfrontaliere composte da quasi 100 alunni, 7 docenti e della coordinatrice Barbara, il secondo gruppo invece 73 alunni, 6 docenti e della sottoscritta, come vedete numeri abbastanza alti. Dunque, nel programmare le attività che abbiamo svolto in questi gruppi trasfrontalieri, volevamo, siamo partiti dal presupposto, ma questo era anche l'obiettivo, innanzitutto di fare in modo che questi alunni si incontrino fisicamente, perché crediamo che questo è uno dei modi più efficaci perché i ragazzi si incontrino, possono instaurare dei rapporti amicali, sia gli alunni sia i docenti, possono confrontare le esperienze scolastiche. Come ho già detto, volevamo comunque conoscere, volevamo che conoscano il proprio territorio per viverlo nel miglior modo possibile. Le attività che abbiamo programmato, realizzato, comunque erano attività attraverso le quali noi volevamo che gli alunni pian piano si fanno questa idea che l'area confinaria è un'unità geografica unica e unitaria, non sono soltanto zone periferiche nel proprio stato, ma compongono un'area con le sue particolarità, con le sue peculiarità e addirittura nel centro dell'Europa, il che non è da poco. La conoscenza del territorio porta anche poi a valorizzare queste particolarità del territorio e anche a promuoverle, cercare di salvaguardarle e anche di valorizzarle. Tutte le attività che verranno poi presentate dai docenti si sono svolte nell'ambito dei laboratori e questo sul territorio, non nelle classi, ma la classe era il territorio, le varie zone, come vedrete, urbane e naturali. Abbiamo raccolto molto materiale, nel senso è stato creato molto materiale sia per i laboratori, durante i laboratori e anche dopo i laboratori e in base a questo materiale poi abbiamo creato le unità di apprendimento. Qui ci sono alcune foto, questo è il primo laboratorio, questi sono i ragazzi più grandi a Capodistria, come vedete anche loro hanno iniziato a conoscersi con il gioco, siamo qui, siamo nella scuola di Capodistria, la scuola di Capodistria, i ragazzi di Capodistria, due gruppi, uno in sloveno e l'altro in italiano, ha guidato la visita di Capodistria, i ragazzi poi dovevano anche compilare dei fogli di lavoro, poi c'è la foto di gruppo, questi invece sono i più piccoli, qui invece la seconda tappa era Muggia, sono stati ricevuti anche in comune, avevano anche loro dei fogli di lavoro, anche loro hanno fatto la visita guidati dagli allunni di Muggia, hanno ricambiato la visita. Qui invece siamo con i più grandi nel parco regionale Becca, abbiamo visitato due paesini, Ozzisla e Clanes, c'erano tantissime cose da vedere, avevamo anche la geografa Tadeja Babic che ha fatto una lezione sulle particolarità di questo territorio di Becca, anche qui avevano dei fogli di lavoro da compilare, c'era anche un po' di pioggia, qui invece sono i più piccoli che loro invece sono andati a visitare le saline di Strugnano, hanno raccolto le piante, qui c'è, mi hanno detto che c'era pioggia, tantissima pioggia, quei piccoli, e così. Dunque da tutto questo materiale creeremo delle unità di apprendimento che verranno pubblicate sul sito, che i docenti di qualsiasi scuola potranno farne uso, visto che sono già belli e preparati, e inoltre in via di realizzazione invece un gioco didattico interdisciplinare bilingue, a forma di un percorso digitale anche con la caccia al tesoro, perché a Muggia avevamo anche la caccia al tesoro, per la conoscenza di questo territorio, dunque Strugnano, Capodistria, Muggia e Beca, che si può farlo in vari modi. Ecco, tutto qua. Adesso do la parola ai docenti. Grazie. Grazie.